Esordio ufficiale della stagione 2017 per la Dinamo che vola verso Forlì dove disputerà la Supercoppa. Avversari di lusso, i bianco-blus sideranno i campioni d'Italia del Reier Venezia. Coach Pasquini presenta l'evento e ci racconta lo stato di salute del suo roster. Abbiamo lavorato bene, andiamo a Forlì per fare del nostro meglio contro la squadra campione d'Italia. Abbiamo voglia di iniziare perché comunque sia il pre-campionato una cosa ma le parti ufficiali sono un'altra cosa per cui siamo da una parte ricchi di carica, di entusiasmo e vogliamo vedere anche quello che succede. È una squadra giovane che ha bisogno di essere più guidata in alcune particolari rispetto alla squadra dell'anno scorso che aveva esperienza, quindi l'esperienza ti consente anche di essere un po' più indipendente nel poter risolvere alcune cose. Quindi questa squadra ha bisogno di essere ancora più guidata, bisogna stare attenti perché ogni possesso può essere un possesso che viene gestito in una maniera giusta oppure si fanno piccoli errori, specie adesso che siamo all'inizio. Hanno entusiasmo, hanno voglia di fare ma anche il gruppo l'anno scorso aveva tanto entusiasmo e voglia di fare per cui quello che ritengo che sia importante è che non devono mai accontentarsi con ogni giorno venire in palestra con la voglia di uscire migliori rispetto a quando sono entrati dentro. Ad oggi le risposte sono positive per cui andiamo avanti in questa maniera sapendo che abbiamo bisogno di tempo perché è una squadra nuova. Cocio, l'ultimissima domanda. Finalmente un 5 che si fa sentire? Ma sì, alla fine devo dire che penso che sia importante averci giocatore atletico ma anche giocatore fisico di conseguenza penso che la coppia Jones-Planic da questo punto di vista ci dia abbastanza garanzie di poter avere l'assetto giusto secondo quelli che sono gli avversari.